Buonasera, seconda edizione del Tg Riviera dei Fiori. Nel nostro telegiornale parleremo della manifestazione organizzata da CGL Cisle Willa d'Imperia davanti alla Prefettura per ricordare il ventesimo anniversario della morte di Giovanni Falcone. Ancora ci occuperemo di Casinò ma anche di un'inchiesta che riguarda in modo collaterale il porto turistico di Imperia e poi parleremo anche di cultura. Quindi questa mattina CGL Cisle Will mobilitati anche ad Imperia davanti al Palazzo della Prefettura nel ventesimo anniversario per ricordare la morte di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e della scorta. Sentiamo quindi il segretario generale della Cise Claudio Bosio e il segretario generale della CGL Revello. Noi come CGL Cisle Willa a livello nazionale e quindi a livello regionale e territoriale abbiamo organizzato per la giornata del 23 e quindi oggi un presidio davanti a tutte le prefetture dei capoluoghi di provincia a livello nazionale. In alcune realtà si è organizzata un corteo con presidio, in altre fiaccolata. Noi abbiamo convenuto unitariamente di fare questo presidio davanti alla Prefettura, richiesto anche a Sua Eccellenza Prefetto un incontro per consegnare un documento. La manifestazione vuole essere un atto di presenza di civiltà per contrastare intanto i fatti avvenuti di Brindisi di cui ancora ad oggi è sconosciuta la matrice. Ma qualsiasi sia la matrice, sia di natura terroristica o mafiosa, sia di un atto vile, intimidatorio di una persona che comunque ha deciso di fare delle cose che sono intollerabili, soprattutto nei confronti della scuola, dei ragazzi e quindi nei confronti della città civile. Quindi noi condanniamo fermamente e ci auspichiamo che tutte le forze di polizia si adoperino in maniera coordinata affinché il prima possibile venga individuato il colpevole e assicurata la giustizia. Oggi è comunque l'anniversario della morte di Borsellino, della moglie e della scorta, quindi è un'occasione anche per ricordare quel momento tragico e quanto quelle persone si sono spese per costruire una città civile di cui oggi ancora noi viviamo e lavoriamo per mantenerla nel futuro. Enrico Revello, segretario generale della CGL d'Imperio, un momento importante in cui lanciare un messaggio forte di riflessione e di denuncia. Sì, siamo qua a 20 anni dalla strage di Capaci, tentato mafioso in cui persero la vita Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Di Cillo. Dico i nomi anche dei tre ragazzi della scorta perché noi spesso diciamo genericamente l'attentato in cui perse la vita Giovanni Falcone, la moglie e i ragazzi della scorta. Credo che il primo diritto di ogni essere umano sia quello di essere chiamato per nome. Noi oggi abbiamo il dovere di onorare il loro sacrificio perché ci sono sacrificati consapevoli del pericolo che ogni giorno vivevano per consentirsi di vivere la nostra vita con dignità. Questo si inserisce anche nel solco del tentato di Brindisi dove ha perso la vita questa giovane sudentessa Melissa Bassi e di tutti gli attentati, tutte le attività criminali che provano quotidianamente a sottrarci quote di dignità, di libertà e di democrazia. E veniamo alla cronaca. Dopo numerosi servizi finalizzati a contrastare lo spaccio di droga ad Imperia, la Polizia di Stato ha eseguito una decina di perquisizioni in abitazioni, garage e in un negozio di ortofrutta ad Imperia Oniglia. L'attività di indagine ha avuto inizio dopo alcuni arresti effettuati dai poliziotti della squadra mobile da parte di alcuni giovani imperiesi trovati nel centro città a vendere dosi di cocaina e di ascisce. Ieri mattino è stato fermato, poi nel piazzale antistante della chiesa di Santa Maria Maggiore, Sante Bianco, 35 anni, residente ad Imperia, mentre stava ritirando la droga nascosta su una macchina parcheggiata sul piazzale. Doveva rifornire, sembro, 25 quelli di Diano Marina che lo aspettava. La polizia è intervenuta mentre stava venendo la consegna ed ha arrestato l'uomo sequestrando circa due chili di ascisce diviso in quattro panetti. Sempre nella medesima operazione, la squadra mobile e la squadra volanti, in collaborazione con l'unità cinofria della Polizia di Genova, ha effettuato diverse perquisizioni in altri garage e negozi di Imperia e ha trovato altra droga nascosta nell'abitazione di Francesco Iacometti, 60 anni, che è stato arrestato e di un 37enne di Imperia che è stato denunciato in libertà. Un pregiudicato di 48 anni, Gino Giorni, domiciliato a Serra, Ricò, evaso dagli arresti domiciliari, è stato rintracciato ed arrestato dai carabinieri della Compagnia di Ventimiglia, nell'ambito di una vera e propria caccia all'uomo, partito dai carabinieri di Genova, che si sono accorti della fuga. Arrestato il 28 agosto del 2011 a Genova con circa un etto di cocaina, il 18 gennaio scorso ha ottenuto il beneficio dei domiciliari, dopo un breve periodo di carcerazione. I militari ritengono che fosse intenzionato ad espatriare in Francia. Un commercialista di Imperia avrebbe spiato e monitorato per diverso tempo i suoi dipendenti durante il lavoro attraverso un programma informatico che registrava ogni passaggio e collegamento con Internet, ma la legge dieta di installare programmi capaci di spiare i dipendenti. Sembra che la poll post abbia sequestrato alcuni computer e recuperato diversi programmi ed altro materiale. Il commercialista rischia una pena che va dai sei mesi ai quattro anni di reclusione. E abbandoniamo la cronaca per il momento, ci occupiamo della casa da gioco. Ieri assemblea presso l'hotel nazionale del sindacato Snalche per fare il punto sulle problematiche relative alla casa da gioco. Per lo Snalche Alberto Guasco ha sentito Bruno Barbaro. Oggi una riunione particolare, voi avete segnalato una situazione molto difficile per il Casinò, in particolare per la Casinò S.P.A., chiedete addirittura l'arrivo di un commissario al Casinò di Sanremo. Sì, oggi c'è stata una grande riunione alla quale hanno partecipato i dipendenti dalla Casinò S.P.A. e dipendenti dalle altre società che gestiscono i servizi terziarizzati. C'è stata una grande partecipazione e c'è oggi una grande preoccupazione per il futuro della casa da gioco e per il futuro dei posti di lavoro. La Casinò, così com'è, oggi non va, è diventata una realtà a sé stante e non riesce ad assicurare una prospettiva di certezza né all'azienda né ai lavoratori. Noi a luglio, dopo i dati del primo semestre, ufficializzeremo la richiesta per quanto riguarda il nostro sindacato al Ministero degli Interni perché mandi una gestione di commissariari. Ecco, la richiesta di un commissario al Casinò in un momento in cui tutti i Casinò vanno male, voi avete quindi qualcosa da criticare all'attuale management del Casinò? Perché? No, il management della Casinò S.P.A. si sta dimostrando di non essere all'altezza del compito, è inadeguato. Ogni mese noi perdiamo circa 1 milione e 200 mila euro. Con questi dati la società va al fallimento. Se non si modifica la convenzione e i costi gestionali rimangono più o meno quelli che sono, noi avremo un bilancio negativo di 12 milioni e mezzo, 13 milioni. E la Casinò S.P.A. si sta rilevando sempre più un danno per la città, per il Comune di Sanremo e anche per i lavoratori. Anche se il Comune di Sanremo dovesse lasciargli tutte le risorse alla Casinò S.P.A. non riuscirebbe a chiuderlo in pareggio il bilancio. E quindi anche quando, come si sembra, il Comune di Sanremo è intenzionato a modificargli la convenzione e lasciargli quasi l'80% degli intuati della Casinò S.P.A., noi avremmo a fine anno un deficit di circa 8 milioni di euro. Quindi la situazione è pesantissima, la crisi c'è, ma c'è una crisi gestionale evidente che va rimossa. Si parla da anni di trovare delle soluzioni per aumentare le entrate, per attirare clientela. Com'è la situazione di Sanremo rispetto agli altri Casinò? Agli altri Casinò non hanno una gestione dissimile dalla nostra. A Casinò di Venezia, tanto per fare un esempio, i lavoratori hanno fatto molte manifestazioni e anche tantissime giornate di sciopero per chiedere la rimozione del management della Casinò S.P.A. di Venezia. Noi ancora questo non l'abbiamo fatto, ma ci stiamo pensando. Oggi il problema è che anche negli altri settori, della casa da gioco, bar, ristorante, ma anche le servizie delle pulizie, non si riesce o non si vuole garantire neanche la continuità lavorativa a questi dipendenti. Cosa cambierebbe in una situazione come questa con l'arrivo di un commissario? Intanto con l'arrivo di un commissario avremmo un risparmio secco di costi di 2 milioni di euro. Cioè solo il cambiamento di gestione con una gestione commissariale ci avremmo sotto il cucino 2 milioni di euro. Già questo è un fatto positivo. Risparmiati da dove? Risparmiamo dal fatto che la società, gli ammortenamenti, tutta una serie di questioni che ci sono dentro, sicuramente non ce l'avremmo di cui c'è più. La gestione commissariale pone fine a tutte queste nomine che di fatto sono state nomine politiche. E arriverebbero, come noi chiediamo, degli esperti, dei manager veri che dovrebbero agire secondo le norme del Codice Civile e ridare una prospettiva di certezza a tutti di noi, alla città, alla casa da gioco e anche ai dipendenti. E la crisi interessa, come abbiamo sentito, tutti i quattro casino municipali italiani. Infatti domani Federgioco, l'associazione che li riunisce tutti i quattro, ha convocato a Roma il tavolo nazionale sindacale, una prima riunione proprio per affrontare le diverse problematiche, anche dal punto di vista della riorganizzazione del personale per affrontare il problema della contrattazione. Verrà rappresentato il casino di Sanremo dal presidente Giuseppe Di Mico, che è attualmente il vicepresidente di Federgioco, che oggi è intervenuto anche sulle affermazioni dello SNARC. Sentiamo. Presidente, ieri una riunione del sindacato autonomo che ha avuto toni duri nei confronti dell'attuale management della Casino S.P.A., al punto di arrivare a ipotizzare la richiesta di un commissario per il casino di Sanremo. Innanzitutto bisogna appunto dire come stanno le cose ai cittadini di Sanremo. Questa è un'azienda che ha il costo del personale del 60% dei costi. E devo dire che è una cosa impossibile per qualsiasi azienda continuare a questi livelli. E questo è già da anni, chiaramente, che si porta via questa politica di aumenti salariali, che sono assolutamente inaccettabili. Oggi tutti si accorgono che l'azienda è in crisi, ma dal 2005, che abbiamo delle flessioni pesanti, e dall'epoca bisognava suonare i campanellini d'allarme. Oggi l'unica cosa da fare è abbattere il costo del personale. Però io ieri non ho sentito parlare di questo. Anzi, coloro che hanno degli stipendi alti e hanno anche delle tutele che altri non hanno, probabilmente potevano fare una proposta di unire del 10% il loro costo per garantire il posto di lavoro agli altri. Questa cosa non l'ho sentita. Anzi, hanno proposto piattaforme salariali, lo SNAL che ha presentato, piattaforme salariali che aumentavano di 6 milioni di euro il costo del personale. Ecco, di fronte a questa situazione, da parte sempre dei sindacati, viene la richiesta di una guida diversa dell'SPA sul fronte della promozione del gioco, sul fronte, insomma, degli incassi. Far arrivare più gente per avere più incassi, per raddrizzare in qualche modo la barca del casino. Noi stiamo facendo tutto quello che è possibile, naturalmente, con le risorse che abbiamo in questo momento. Questa è un'azienda che non è stata ricapitalizzata e sta cercando di far fronte con i propri mezzi. Ma, ripeto, in questo momento l'unica spesa comprimibile è stata quella della promozione e altre spese che chiaramente sono state ridotte notevolmente. Oggi bisogna fare un altro passo, che è appunto quello di ridurre il costo del personale. Sul fronte, invece, di una ricerca di un aumento degli introiti, un fronte comune con tutti gli altri casino, perché la situazione non è rosa per nessuno? La situazione è uguale agli altri tre casino. Domani, appunto, abbiamo questo incontro con le organizzazioni sindacali, che tra l'altro non è che noi non abbiamo rapporti, abbiamo le organizzazioni sindacali, ci sono anche quelle serie che hanno voglia di discutere e tra l'altro, per quanto riguarda proprio il problema della ristorazione, noi abbiamo un incontro lunedì con CGL e Cisle Will per affrontare quei problemi, che secondo me devono essere condivisi. Per cui non c'è nessun problema di trasparenza o altro. L'unica cosa è che bisogna affrontarlo anche con il bilancio in mano. Cioè qua non si può parlare senza avere le cifre reali tra le mani. Ecco, proprio su questo punto il sindacato Snal che dice che anche con ricapitalizzazioni, anche arrivando all'80% degli introiti tratenuti a favore della struttura della casino SPA, non si arriverebbe comunque a un bilancio normale, inattivo. Guardate, la crisi penso che sia sotto gli occhi di tutti. Cioè qui non stiamo parlando di un momento di flessione degli incassi perché hanno aperto qualche macchinetta, come è successo semmai qualche anno fa. Qua abbiamo 3.200 sale slot aperte in Italia. Sono 400.000 ormai le new slot e 50.000 le VLT. Abbiamo la concorrenza anche del gioco online perché c'è anche questo e in più abbiamo naturalmente, ripeto, la stessa situazione degli altri casino. Ora, o queste strutture intervengono in modo strutturale sui costi oppure chiaramente non hanno futuro. Ora, o ci si siede seriamente per affrontare i problemi e non per fare demagogia o semmai fare politica oppure qualcuno probabilmente non ha questi interessi. Cioè non ha interesse che questa azienda si salvi. Avrà altri interessi perché chi chiede il commissariamento probabilmente ha altri interessi. Torniamo alla cronaca. Domani, giovedì 24 maggio, presso la camera mortuare del cimitero di Imperio Neglia dalle 8 alle 12 e dalle 14.30 alle 17 verrà esposto il corpo dell'uomo sui 60-65 anni trovato morto il 25 marzo scorso in un oliveto in zona Sant'Agata d'Imperia che attende ancora oggi di essere identificato. La vittima è alta circa 1,75 m, aveva barbe e capelli bianchi, un posto impiati al centro del capo, indossava pantaloni blu, una maglietta bianca, maniche corte, calzini blu, scarponcini da ginnastica. Al polso sinistro inoltre indossava un braccialetto in acciaio con maglie elastiche incisi due cuori. La morte, secondo una prima perizia medico-legale, sarebbe legata ad un malore, ad un evento accidentale e risalirebbe ad un mese prima del suo ritrovamento. Il corpo in avanzato stato di decomposizione non permette di stabilire se si tratti di un italiano o straniero, ma i carabinieri che indagano sull'accaduto hanno comunque prelevato tracci del DNA per una futura comparazione. Dal giorno del suo ritrovamento non è giunta alcuna segnalazione e quindi molto probabile che non fosse della città d'Imperia. Inoltre, che possa trattarsi, si pensa di un clochard, soprattutto rispetto al suo abbigliamento. Comunque domani la salma verrà esposta nella camera mortuaria del cimitero di Imperia. E veniamo ad una nuova inchiesta legata questa volta alla spiaggia, spiaggetta di San Lazzaro ad Imperia, limitrofa al nuovo porto turistico. Sentiamo. I militari della Capitaneria di Porto d'Imperia, insieme ai tecnici dell'ARPAL, sono intervenuti questa mattina anche con l'ausilio di un escavatore nella spiaggia di zona San Lazzaro che corre a ridosso del parco urbano. Marinai e tecnici hanno fatto scavare delle ampie buche sulla spiaggia per prelevare campioni di terreno in profondità. I campioni dovranno ora essere analizzati nei laboratori dell'ARPAL per stabilire se nella realizzazione della spiaggia siano stati impiegati o no elementi inquinanti. I controlli sono legati a un'inchiesta della Procura della Repubblica di Imperia, abbiata a seguito di un esposto di rifondazione comunista, nel quale veniva appunto segnalato che nella realizzazione della spiaggia, legata ai lavori di costruzione del nuovo porto turistico, erano stati probabilmente impiegati materiali di risulta provenienti dallo scavo delle gallerie della nuova ferrovia, considerati inquinanti e non impiegabili per quel tipo di intervento. Da qui l'inchiesta e i conseguenti prelievi eseguiti questa mattina. Dalle analisi dei campioni si scoprirà se i materiali usati siano effettivamente inquinanti oppure no. Il commissario prefettizio di Imperia, Sabatino Martione, ha fatto visita questa mattina alla Capitaneria di Porto di Imperia. Lo ha ricevuto il capitano di Fregata, Enrico Macri, comandante della Capitaneria. L'incontro improntato sulla massima cordialità ha costituito l'occasione per manifestare al commissario la disponibilità dell'autorità marittima alla massima collaborazione nei diversi ambiti di competenza. La direzione dell'Inps di Sanremo informa che domani, giovedì 24 maggio, saranno eseguiti lavori di manutenzione straordinaria al sistema informatico dell'Agenzia di Sanremo, quindi con conseguente interruzione delle linee telematiche previste per l'intera giornata. Quindi il servizio di sportella al pubblico per la giornata di domani sarà garantito solo per la consegna di pratiche e documentazioni, ritiro dei moduli e informazioni generiche. Nella giornata di domani sarà regolare l'attività degli sportelli delle serie di Imperia e di Ventimiglia. La pagina della cultura degli spettacoli. Al Teatro Ariston di Sanremo, domani 24 e venerdì 25 maggio, si terranno le finali della dodicesima edizione del Premio Internazionale Danza Giovani Città di Sanremo organizzato dall'Ariston ProBallet con l'alto patrocino del Ministero dei Beni Culturali di Roma. Ce ne parla Marcello Algeri, direttore e coreografo, Sabrina Rinaldi, direttrice dell'Aliston ProBallet e Joseph Albano, direttore e coreografo dell'evento. Il 24 e 25 maggio a Sanremo la danza è la vera protagonista. Che cosa succederà? Allora, è la dodicesima edizione del Premio Internazionale Danza Giovani Città di Sanremo, un premio che ormai è entrato nel Palissesto Nazionale e Internazionale della Danza. È un premio che dà come premi del lavoro, dà premi di contratti nazionali, contratti internazionali e permette anche ai giovani talenti di andare in grandissime accademie per riuscire a entrare e quindi a diventare finalmente protagonisti della danza nel vero senso della parola. Chi sono i premiati? I premiati saranno coloro che vinceranno la competizione e avranno l'opportunità di volare a New York, in varie accademie, avranno l'opportunità, se validi e se preparati, di fare una produzione con Joseph Albano, che è il direttore del Connecticut Ballet USA. In 12 anni abbiamo dato posti di lavoro, almeno una decina di danzatori che hanno iniziato la loro carriera. Quindi penso che questa sia una prerogativa unica di questo premio, in Italia, io credo. La danza allora è un'opportunità per i giovani. Oltre ad essere una competizione, un premio a livello nazionale e internazionale di grande qualità, l'importante è questo sposalizio, diciamo, tra l'America e precisamente lo stato del Connecticut e la città di Sanremo, in quanto comunque anche grazie a questo Sanremo abbiamo portato comunque il nome della città di Sanremo negli Stati Uniti. E quindi questo per lui è molto importante anche, non è da sottovalutare questa cosa, anche da un punto di vista turistico, voglio dire, visto che la città di Sanremo comunque emetta anche a livello di turismo durante l'estate. La cosa molto importante è anche il fatto che da anni ormai loro danno la possibilità a tanti ragazzi di avere come premio il viaggio pagato, la sistemazione per tre mesi negli Stati Uniti, quindi continuare ad imparare, a lavorare, e hanno anche l'opportunità poi di danzare all'interno della produzione dello schiaccianoci di Mister Albano, e quindi questa è una grande opportunità per questi ragazzi. Io vorrei invitare comunque tutti, a partire dall'Aggiunta Comunale, dal Sindaco a tutti, ecco, ad essere con noi in questa serata, naturalmente anche a tutti coloro che amano la danza e che vivono di danza, perché vivendo di danza naturalmente bisogna sostenere tutto quello che è danza, e quindi io invito tutti a partecipare come ospite alla serata di gala che si terrà il 25 maggio al Teatro Ariston e soprattutto citerei che siamo numerosi per la soddisfazione delle persone che sono su quel palcoscenico, perché è comunque molto importante per un artista danzare su un palcoscenico con una platea piena e soprattutto per le personalità che ogni anno portiamo. Premio Ariston Pro Barle per la Danza 2012 il maestro Germina Alcasado, che è stato uno dei più grandi interpreti della compagnia di Bejar e poi è stato direttore, costumista, scenografo, pittore, poeta e chi più ne ha più ne metta per più di 30 anni al Badicestà Teatro di Karlsruhe. Bene, siamo in chiusura del nostro notiziario. Adesso c'è Achille Pennellatore col Meteo Liguria. Subito dopo la trasmissione Prevenire e Vivere che curiamo in collaborazione con la Lilt e Lega Italiana lotta contro i tumori con noi il presidente provinciale, il dottor Claudio Battaglia. Grazie di rimanere con noi. Signori a tutti, buonasera. Piano piano stiamo tornando in condizioni di alta pressione. È un anticiclone ibrido, ha diverse origini, un po' meticcio, c'è un po' di quello delle azore, meno di quello africano, una buona parte ha e soprattutto avrà di quello continentale e questa caratteristica di essere continentale farà sì che le temperature aumentino nei prossimi giorni in maniera molto stentata, soprattutto le minime del pomeriggio e poi la posizione che avrà ci garantirà un po' di instabilità polmeridiana nelle zone interne. Ecco dove dobbiamo guardare. Questo gruppo di nuvole qua collegate a un fronte freddo che proprio arriva dal nord-est dell'Europa. A questi annuvolamenti è il residuo della vecchia depressione che si sta colmando e quindi non ci interesserà più di tanto mentre le altre perturbazioni, anche se si avvicinano, scanseranno l'Italia. Andiamo alla prima cartina domani, giovedì, alle ore 14 locali e con una linea di instabilità che interessa più che altro all'Adriatico e qui c'è quel fronte freddo che abbiamo visto scendere con quegli ammassi nuvolosi. Vedete già che la parte più occidentale, quella destinata a noi, sta già perdendo i pezzi, è già tratteggiata, quindi già di per sé stessa su quelle zone e quando arriverà da noi sarà del tutto attenuata. Invece la parte più attiva sarà riservata all'Adriatico. Domani quindi una giornata con il cielo poco nuvoloso. Di pomeriggio la formazione di qualche cumulo, per adesso ancora giudizioso, nelle zone interne. Un vento irregolare, depressionario, 5-15 nodi, localmente venti da sud ovest a largo e il mare poco mosso sotto costa, ancora mosso a largo. Le temperature stentato aumento. Istentato aumento. Andiamo alla cartina successiva del venerdì. Il fronte si avvicina, la parte più occidentale l'ha addirittura persa per la strada, rimane alla parte più orientale che poi verrà giù tra nord e nord-est. Ma venerdì, parliamo ancora di cielo poco nuvoloso al mattino, nuvoloso nel pomeriggio, questo fronte in montagna potrà già cominciare a dare qualche isolato temporale tra il pomeriggio e la sera, forse uno sconfinamento localizzato sulla costa, anche se sarà molto difficile. Il vento ancora da sud ovest in prevalenza, 5-15 nodi, mare poco mosso, temperature ancora in stentato aumento. Giornata successiva è quella del sabato. Vedete che il fronte va dalla Corsica al Tireno e poi l'Adriatico, noi ci lascia praticamente liberi. Quindi sabato poco nuvoloso, ripetizione dell'instabilità pomeridiana nelle zone interne e temperature sempre in aumento, magari un po' di vento da nord-est, debole, 10-12 nodi, mare poco mosso. L'ultima cartina è quella per la domenica. C'è un grande affare di altri bollettinari che vogliono di nuovo rovinarci la domenica, ma io di solito vado controcorrente e non riesco proprio a vedere, anche mettendomi in altro paio di occhiali, un peggioramento per la domenica. Semmai il peggioramento sarà qua sulla Spagna, parcheggiato, non ci interesserà. Non ci sono perturbazioni, quindi domenica sereno o poco nuvoloso, al pomeriggio qualche cumulo, venti deboli, brezze, mare poco mosso e temperature di nuovo in aumento. Grazie a tutti per l'attenzione e buonasera.